Oggi celebriamo la domenica della divina misericordia ed è un momento particolarmente importante per la vita di tutti noi, per la vita anche del popolo italiano e quindi in qualche modo il pensiero di affidarsi alla misericordia di Dio è certamente un pensiero che ci è ben presente, però vorrei cogliere come sempre una suggestione di tipo pedagogico dalle letture di oggi. La suggestione fondamentalmente si può trovare in un passaggio del Vangelo in cui viene narrato anche simpaticamente l'episodio di Tommaso, di Tommaso che non era presente nel momento in cui Gesù risorto appare ai suoi discepoli e mentre questi gli narrano ciò che era accaduto, gli danno il lieto annunzio di ciò che era accaduto, lui esce fuori con quella libera esternazione che è diventata quasi proverbiale, per cui se non vede, se non tocca, se non mette la mano nelle piaghe della passione del maestro, della passione del Signore, non è disposto a credere che egli davvero è risorto. Adesso proviamo a riflettere sull'insegnamento che questo episodio può dare anche all'insegnante, anche all'educatore umano, al di là del messaggio evangelico. Anche chi insegna chiede fiducia, chiede fiducia a coloro che dovrebbero seguirlo in un certo cammino, in un certo cammino di apprendimento e chiede quella fiducia che in qualche modo è condizione necessaria perché possa avvenire l'apprendimento. L'apprendimento non può avvenire se non c'è questo passo iniziale in cui chi ancora non sa e ancora non ha gli strumenti per valutare ciò che ignora, inizialmente non si affida al maestro, all'insegnante, a colui che lo può guidare. È chiaro che questo affidamento iniziale non diviene una rinuncia perenne all'esercizio della propria intelligenza critica, perché è chiaro che l'affidamento iniziale porta col tempo ad acquisire quegli strumenti che potranno permettere all'allievo di superare il suo stesso maestro e ogni maestro in cuor suo desidera di essere superato dai propri allievi e che potranno evidentemente consentire all'allievo anche di giudicare, nel senso di emettere un giudizio, criticare, porsi degli interrogativi sugli stessi insegnamenti del maestro. Ma questo avviene in un secondo tempo, avviene nel momento in cui uno ha fatto quel passo iniziale in cui proprio perché si è fatto guidare ha iniziato il cammino della mente. Ecco che allora anche l'insegnante che dovesse accorgersi che i suoi allievi non sempre, non su tutto, non in ogni momento sono disposti a fare questo passo iniziale, anche che quell'insegnante può ripensare all'atteggiamento di Gesù con Sant'Omaso. Apparso nuovamente e questa volta con la presenza di Tommaso, Gesù da un lato lo invita a mettere il dito nella piaga, come si l'altro lato, non perde l'occasione per esortarlo a guardare più lontano. Perché hai veduto, hai creduto? Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Ecco che allora anche in questo ultimo passaggio del Vangelo troviamo l'atteggiamento resiliente del Maestro che elabora il lutto di questa mancanza di fiducia iniziale e coglie l'occasione di un piccolo, potremmo dire, incidente critico per rilanciare il suo insegnamento con ancora maggiore forza, con ancora maggiore vigore.